Hanno suonato! Avanti! Avanti! Venga, venga! Lele, portalo in sala, fagli vedere dov'è! Secondo me no! Lele! Lele, vieni qua! Vai Beethoven! Non vuole la luce! Babbo Natale, Lele! Sai da dove arriva? Dal polo nord! Mi vuoi regali? Fa freddo là eh! Fa tanto freddo! Vediamo cosa ha portato! Allora, leggi che Babbo Natale... Questo è per... Sofia! C'è scritto... Per Sofia! Per Sofia! Sofia! Mettilo qua! Mettilo qua! Guarda, lo mettiamo qua per Sofia! I regali uno di Sofia! Eh, non ce n'è! Vediamo! Sabrina! Sabrina c'è scritto! Quella è per Zia Bina! Arriva Lele, anche per te! Oh! E' per me! Mamma mia! E' per me! E' per te Lele! Mettilo qua allora! Aspetta Lele! Mettilo qua! C'è le altre cose, non lo so! Grazie! Questo è per... Buon Natale! Mia! Sabrina! Mia! Cosa era Sabrina? Oh oh oh! Sei stata brava allora! Che sei? Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Mia! Mi sa che gli Elf hanno sbagliato qualcosa! Cos'è? Sabrina! Dai! 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 Pi... Sofia! Oddio! Buon Natale! Buon Natale! Sì! Che grande è questo di Lele! Buon Natale! Pio! Pio! Ma mischiali! Mischiali! Quella è per Zio Pio! E mamma! Lele ce l'ha! E per mamma! Mamma è forte! E mamma è forte!